Sì, da oggi io sono triste, io sono triste perché stiamo vivendo un brutto momento, stiamo vivendo una macchina che trova una volta triste, che vede sicuramente regionale le condizioni di questa città. Io non vedo un grande percorso di forza da rendere le sconarie in questo momento, se non vedo, io non credo, come se già vi inviare un altro circostante su un po' di sua voce strana, che non si sono nella mia sensazione, io non credo che in Italia, perché oramai sono avviti la gente, dal primo giorno è più evidente di altro. Purtroppo, io ricordo che tutti i popoli non citati, ma anche questo è proprio il punto che si diceva, infatti, secondo me, se fosse una persona più grande a Poligia, sono una caccia di andare avanti. Stato a questo, però ci sono i contratti, un book, come si è legittimamente, avete usato anche un presidente per qualcuno che non si deve essere in aula, e soprattutto non si chiede l'oppositazione. E oggi, se vuoi ripetere questa esperienza, secondo te, è un viagravanto unico, come un avalato che sta all'epulcina, ma si diceva, con una terapia, mi portava avanti il più possibile. Oggi sono il mio consiglio, e non ci sono proprio la stessa scultura, che è in questa fortuna, in questa fortuna, in questa fortuna, in questa fortuna, perché, come nasce dal mondo, come nasce dallaALIA, 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 dallaalIA. Che c'est la questione? Il presidente nazionale politico si potrebbe evitare un'operazione di civetà... ...e non... come così? Non c'è più, non c'è più la presenza di ciò, non un'imagine al partito... ...e non c'è più... ...mi invitiamo, non posso invitare i consiglieri adesso. Se volete discutere di qui, non ci sono delle altre che sono la senza la vostra... Prego, si parla di servizio. 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 Prego, si parla di servizio.